ABB Formula E è oggi è il futuro ed è elettrica i campioni triunferanno e un unico grande momento può fare storia per ABB questa è più di una gara significa ripensare al nostro modo di vivere lavorare spostarci e produrre senza consumare il pianeta unendo grandi squadre creiamo e innoviamo le tecnologie per affrontare le sfide del nostro mondo di oggi e di domani porteremo ABB Formula E nelle città di tutto il mondo per condividere la nostra visione di guidare il progresso verso un futuro intelligente e sostenibile ABB Formula E più di una gara